Ciao YouTube da Moreno, riprendiamo con la rubrica un tabacco per una settimana, visto che siete in tanti ad avermi chiesto di continuare con questo esperimento. Questa volta però non farò uscire un video ogni giorno, ma farò uno, due, tre video, non lo so, vediamo, con più giornate assieme. Per questa occasione voglio parlare e scoprire assieme un tabacco reperibilissimo in Italia, che è da tanto tempo che voglio provare, ma che non ho ancora avuto occasione, e mi sembrava il momento perfetto questo di farlo insieme a voi. Sto parlando del super reperibile nelle tabaccherie specializzate Brebbia, ricordo che Brebbia praticamente seleziona una o più tabaccherie in ogni città, e le seleziona un po' come rivenditori ufficiali, e le rifornisce di tabacchi e di pipe. Quindi sul sito Brebbia trovate l'elenco di queste tabaccherie, e quindi è un tabacco che finalmente potrete provare tutti e trovare tutti, e quindi potremmo scambiarci dei pareri. Stiamo parlando del Brebbia Serenata, che è la mixture numero 28. E' una mixture di Virginia Barley e Latakia Siriano, in piccole foglie, come dice la descrizione e come dice anche la scritta sul latin. Ora io vi faccio vedere, o vi starò facendo vedere, o vedremo dopo, non so, l'apertura del latin. Posso intanto cominciare a dirvi che è un tabacco recensito sul Tabacco Review, ha parecchie recensioni, mi sembra, se non ricordo male, sui 3.1 e 3.2, e quindi ha un voto decisamente buono. Piccola premessa, cioè piccola discussione che si creerà o non si creerà sul tabacco siriano, sinceramente non mi interessa capire, cioè a scopo culturale e come curiosità da fumatore di pipa, mi piacerebbe capire se si tratta davvero di Latakia Siriano o no. Qui addirittura specifica piccole foglie e sappiamo che Latakia Siriano si contraddistingue appunto dal Cipriota, appunto per queste piccole foglie. Noi qualche anno fa come lenti fumatori del tubo sentimmo brebbia tramite mail e ci comunicò che avevano ancora scorte di Latakia Siriano e fino a che queste scorte c'erano loro producevano con Latakia Siriano. Quindi, visto che non abbiamo nessun motivo per sospettare il contrario, prendiamo per buono quello che ci viene detto anche sulla confezione. Allora, il profumo, il profumo a crudo è molto molto intenso. Si sente quel tipico profumo dei tabacchi brebbia che sento anche in quelli che conosco di più, che sono il Balkan 10 e l'Atakia Flake numero 9. Come ho già avuto modo di dire, i tabacchi brebbia hanno, secondo me, questa stessa impronta. Hanno questo profumo comune, come lo hanno anche altri tabacchi, gli Scourge di cui abbiamo parlato qualche video fa e di cui riparleremo. Anche loro hanno questo profumo che li contraddistingue. Allora, questo è molto molto pungente. Io ci sento tantissimo il legno, le spezie, ovviamente legno resinoso di pino, comunque dato dall'affumicatura del legno, può essere il legno utilizzato per affumicare le foglie di Atakia. Ricordo che il procedimento per la creazione della Atakia prevede che venga affumicato con varie sostanze. Sì, il profumo è davvero ottimo e naturale. Si sente questa nota molto molto pungente nel naso, di speziatura, una leggera affumicatura che però passa in secondo piano rispetto alle note legnose. Anche una certa dolcezza, quindi legno dolce, anche legno un po' di sandalo. Odore veramente interessante. Andiamo a caricarlo in una pipa che non vi ho ancora mostrato. È una Peterson. Ultimamente, chi mi segue, sa che sono un po' infissa con le Peterson. Questa è un modello base, non è niente di che, non è una serie alta. È la Peterson Killarney. Non so come si pronuncia. Killarney. come vedete, scritto qui. Allora, adesso il colore, voi vedete questo rosa shocking, in realtà, è il classico rosso Peterson, quel rosso molto molto intenso. Peterson fa dei rossi e dei verdi che possono piacere o non piacere, ma connotano molto la loro tipologia di pipe. Questa qui è lo shape, la XL90. è una pipa molto molto grossa, panciuta, un po' come la Chubby John Bull della pipa dell'anno 2019. Andate a vedere, c'è qualche video che mostra l'unboxing. è una pipa. Allora, eseguita, devo dire, non alla perfezione, ha qualche impurità, cioè impurità, qualche piccolo difetto nella radica, qualche segno qua e là, ovviamente niente di compromettente, ha il difetto di avere questa vera, che non è in argento, ma è un metallo non prezioso, che si sfila fuori dal suo inserto. Questa pipa io l'ho acquistata nuova, ma in un mercatino dell'usato, quindi è qualcuno che l'ha comprata, non l'ha fumata minimamente, perché l'ho rodata io, l'ho accesa io per la prima volta, e l'ha deciso di rivenderla, per chissà quale motivo. Quindi il risultato della vera che esce, è che una volta rimessa, bisogna stare lì, concentrarsi, e rimettere giusto l'anello, perché crea una certa discontinuità, poi quando si va a rimontare, bisogna avere solamente l'accortezza, di rimetterla dritta, e rimettere il bocchino. Allora, la vera non dovrebbe staccarsi di lì, però è una pipa che ho pagato poco, è comunque una serie economica, io l'ho pagata 30 euro o 40 euro, era con custodia originale, con addirittura un portatabacco originale Peterson, e uno scovolino, tutto nuovo, mai usato, ho deciso di prenderla, anche se lo shape non era tra i miei preferiti. mi sembra sia una pipa che si aggira comunque intorno ai 100 euro, 90 euro, è una serie, la Killarney, che, da sito Peterson, dice di riprendere gli shape classici di Peterson, quindi sono tutti shape classici di Peterson, e ricordo che Peterson comunque c'è da tantissimi anni, e fa storia a sé, ha degli shape classici, che in questa serie economica va a riproporre. Allora, io l'ho fumata un sacco di volte, questa pipa l'ho fumata con, soprattutto con i tabacchi scurce, con il 128, con il 146, con altri English Mixture, l'ho adibita a English Mixture, e vi posso dire che fuma benissimo. Il palatale è perfetto per rimandare le sensazioni delle miscele inglesi, e io sono soddisfatto al 100%, nonostante i difetti che ha. L'avessi comprata nuova, insomma, mi sarebbero girate un po' le scatole, cioè a prezzo pieno intendo, mi sarebbero girate un po' le scatole per la vera che si toglie e si mette, però se devo valutare le sue capacità, cioè la comodità, io la uso un po' come pipa da battaglia, forse perché l'ho pagata poco, e sono soddisfatto al 100%, quindi se non volete spendere tanto, diciamo, ci aggiriamo sul prezzo di alcune Savinelli, i modelli quelli di base, le produzioni industriali di Savinelli, più o meno, ecco, è una pipa che si può paragonare, non a pipe di alta fascia, ma a quella fascia lì, e direi che sono a pari merito, non ha nulla da invidiare, per certi versi qualcosa meglio di alcune Savinelli per lo stesso prezzo, ma carichiamo il tabacco, il tabacco è prontissimo per essere caricato, così com'è, io gli ho dato solamente una passatina tra le mani, che va a togliere un pochettino di umidità, essendo un taglio ribbon, vado a caricare così a caduta, do qualche picchiettata per far aderire bene il tabacco, come vi ho già detto centinaia di volte, verso la fine vado a premere un pochettino di più, cerco di eliminare i pezzettoni più grossi, fino adesso non ho ancora premuto niente, l'ultima manciata, vado a premere un po' di più, ruoto con il dito, di modo da fare la stessa pressione, un po' su tutto il fornello, mentre lo sminuzzavo un po', lo passavo tra le mani, ci giocavo tra le mani, ho sentito una dolcezza in più, esalare dal tabacco, che ricorda un po' quella dolcezza, che c'è anche nel rondò, solamente al profumo, quindi anche il rondò, è dichiarato la tachia siriano, potrebbe essere questo la tachia, che ha questo profumo simile, ok controllate il tiraggio, perfetto andiamo ad accendere, andiamo ad accendere, così valutiamo anche l'accensione assieme, non sembra vero, nessuna difficoltà ma sapete che io insisto sempre con l'accensione mi piace che si alzi bene il tabacco ok partito le prime boccate sono saporite di gusto pieno niente di anormale diciamo da una english mixture classica qui mancano gli orientali quindi ricordiamo è una english mixture di virginia barley e latacchia siriano molto profumata e molto fruttata anche ci sento fin da subito una nota fruttata mette a fuoco questo telefono questa sera o no la combustione sembra ottima la cenere bella bianca quindi il tabacco non ha nessuna difficoltà accensione semplicissima il tabacco è pronto all'uso il gusto è bello pieno fin da subito tanto sapore è molto molto piacevole ci vediamo tra un po e vi dico se è cambiato qualche cosa dunque la fumata procede benissimo e continuativa da circa una quindicina di minuti 20 scusate non ho preso il tempo la cenere e il braciere sono perfetti i sapori sono tutti quelli che sentivo a crudo più una nota più accentuata di speziatura e di frutta che mi ricorda anche tipo la mela non necessariamente matura proprio un debole sapore di mela legno affumicatura quindi molto molto interessante nei sapori già da subito tabacco che non ha bisogno di riscaldamento insomma combustione ottimale vediamo tra un po se ci riserva qualche altra sorpresa arrivati a metà fornello le punte di sapori quelle iniziali così accese tendono molto a stabilizzarsi ma rimane una fumata piena cioè il fumo in bocca è vellutato è corposo anche per questo mi sembra molto equilibrata ora si sentono molto di più i virginia si esprimono per me sempre in queste note legnose e speziate il latakia è sceso molto devo dire sembra comunque una fumata molto molto interessante soprattutto e anche per la conduzione che è proprio serena costo no 16 euro non credo questa latta sarà un po' vecchia adesso dovrebbe essere sui 18 18 o 20 euro probabilmente ce l'ho da più di qualche mese questa latta dalla metà del fornello ci stiamo avviando verso la fase conclusiva bigliacca se si vede dentro vabbè ho fatto due o tre riaccensioni più che altro per non curanza per poca concentrazione ma la fumata procede regolare confermo questo abbassamento dei toni soprattutto quelli quei sapori derivanti dal latakia e dall'affumicato e confermo una concentrazione dei sapori tutti improntati sui virginia e sul legno si sono abbassati anche tutte quelle punte dolci che ho sentito al profumo e all'accensione si sono completamente stabilizzate se non quasi sparite e questa è la sostanziale evoluzione l'unica che ho sentito per adesso rimane comunque una fumata vellutata corposa anche se non è il corpo c'è ma non c'è insomma nicotinicamente non è un tabacco aggressivo come non lo è quasi nessun tabacco con la takia che io ho provato le boccate sono sempre molto piene adesso sento anche qualche sentore un po' più acidulo si qui è decisamente il virginia al 90% e anche il barley devo dire che è diventato protagonista dal rilascio dal naso passando il fumo dal retronasale ovviamente la takia c'è e si sente non è che non si sente ma non è più il protagonista indiscusso che era nei primi dieci minuti io vado a concludere la fumata a meno che ci sia qualche qualche cambio di rotta improvviso qualcosa da segnalare io vi saluterei qui si legno legno vegetale bilanciato con un con un amarognolo anche di sottofondo leggera affumicatura e in questi giorni lo fumerò assiduamente vediamo se riesco ad arrivare a metà latta o magari anche di più lo proveremo in pipe diverse troverete poi questo video e tutti gli altri della serie nella playlist un tabacco per una settimana c'è anche troverete già anche quello del westminster che abbiamo fatto qualche mese fa cercherò di farlo questo in una veste un po' più snella e fruibile da tutti stiamo ascoltando op8 album del 92 dei tool è uscito il nuovo dei tool da qualche mese è una bomba io ho potuto ascoltarlo solamente online eccolo lì il pretone allucinato andate a sentirvi tool se non li conoscete perché sono un po' i capostipiti di questo rock progressivo per certi versi mistico per altri anche aggressivo comunque con delle tematiche con dei testi importanti e con un grande messaggio alla base il messaggio è tipo smontate tutto quello che vi siete costruiti intorno cercate di guardarvi di vedervi di capirvi e cercate di non farvi fottere da niente questo album si chiama op8 leggevo in un'intervista fatta a Maynard il cantante diceva per la citazione che la religione è l'oppio dei popoli frase di nice è un po' il concetto dei loro testi è questo no smontare un po' le credenze le cose che ci assoggettano a uno schema a una credenza e diventare finalmente se stessi anche attraverso tutti gli album soprattutto gli ultimi sono ricchi di citazioni anche mistiche spirituali ma il concetto è sempre quello liberarsi un po' dai sovraschemi dalle sovrastrutture per vedere e trovare se stessi ciao ci vediamo domani o nei prossimi giorni da Moreno iscrivetevi commentate ciao ciao ciao